Quadro sconfortante per quanto riguarda la condizione ambientale dei corsi d'acqua della nostra regione, stando ai dati di classificazione ARTA per il triennio 2015-2017. Per quanto riguarda lo stato chimico, si è registrato un netto peggioramento, con le stazioni di uno stato non buono, che passano dall'11% del quinquennio 2010-2015, dati su 73 stazioni monitorate, al 21% del triennio più recente, con 81 stazioni sotto controllo. Causa di questo peggioramento la presenza, oltre la soglia, di metalli pesanti, pesticidi o sostanze come nickel, presenti nel fiume Sangro e Moro, il piombo riscontrati nei fiumi Salinello, Mavone, Cerrano e Calvano, presenze di mercurio nei fiumi Castellano, Tronto e ancora Salinello, tracce di cadmio presenti nell'Aventino, clorpirifos nei fiumi Dendalo e Moro, infine tracce di pentaclorofenolo nel fiume Tavo. Notizie migliori, se così possiamo dire, arrivano per quanto riguarda lo stato ecologico, dove il confronto con i dati della classificazione precedente, sempre 2010-2015, dice che sulle 111 stazioni dislocate sui vari corsi d'acqua, in 19 casi c'è stato un miglioramento, mentre in 12 casi un peggioramento, invariate le restanti. Pertanto, dal 72% di non conformità rispetto all'obiettivo di qualità ecologica buono, fissato dalla direttiva 60-2000 della comunità europea, si è passati al 65%. Augusto De Santis del forum H2O traccia le linee guida per risanare i nostri corsi d'acqua. Dobbiamo cambiare rotta, la regione deve non solo investire di più sulle opere, che sono importanti, come i depuratori, ma anche la rinaturalizzazione delle sponde, la vegetazione ripariale molto importante, la rimozione dei rifiuti lungo le rive. Poi bisogna cambiare la pianificazione. Il piano di tutela delle acque della regione Abruzzo è sostanzialmente uno strumento inutile, scritto in questo modo, l'avevamo detto, bisogna imporre regole molto più stringenti e rigide per quanto riguarda per esempio gli scarichi, bisogna revisionare le captazioni perché si toglie troppa acqua dai nostri alvi e poi bisogna perimetrare le aree di salvaguardia per le acque potabili, una cosa su cui la regione è omissiva addirittura da 13 anni.